Ciao a tutti, ben arrivati al 44esimo congresso nazionale Sinfer, siamo qui a Bari, ci siamo trovati oggi e abbiamo nella giornata di esordio ascoltato una serie di belle e interessanti comunicazioni dei giovani fisiatri italiani. Pomeriggio è stato davvero interessante, tutte le scuole di specialità italiane dal nord al sud, da Milano fino a Reggio Calabria oggi hanno attraverso i giovani ragazzi e attraverso i direttori delle scuole presentato una serie di lavori interessanti. Questo è un buon viatico, un buon inizio per il congresso e devo dire che è anche un buon messaggio di speranza per la riabilitazione italiana e questo è sicuramente, devo dire, un buon punto di partenza. Il congresso oggi poi è continuato con i saluti diritto delle autorità e poi con una buona cerimonia di apertura. Devo dire che è stata una buona giornata, speriamo nelle prossime giornate, buon lavoro a tutti e seguiteci sui media. Grazie, ciao!